In uno scenario economico caratterizzato da inflazione, tensioni geopolitiche e cambiamenti tecnologici, il saldo 2023 per le imprese italiane resta positivo, ma non per tutti gli ambiti di attività. Oltre il 70% delle 42.000 imprese registrate in più negli ultimi 12 mesi, infatti, opera in soli tre macro settori, le costruzioni, il turismo e le qualità professionali. È quanto emerge dai dati i nuovi imprese sull'andamento della demografia delle imprese nel 2023, elaborati da Union Camere e Info Camere sulla base del registro delle imprese delle Camere di Commercio. Il più dinamico in termini di crescita imprenditoriale è il comparto delle costruzioni, che, nonostante l'incertezza sulle prospettive dei bonus legati al mondo dell'edilizia che ha caratterizzato il 2023, alla fine dello scorso anno ha contato 13.541 imprese in più rispetto al 2022. Bene anche le attività professionali, scientifiche e tecniche, trainate da un boom della consulenza aziendale e amministrativo gestionale. Anno positivo anche per il comparto della vacanza e delle attività immobiliari. I settori più tradizionali continuano a segnalare un restringimento della platea delle imprese. Per il commercio al 2023 si è chiuso con una riduzione complessiva di 8.653 attività, coinvolto in particolare il commercio al dettaglio. Segno meno anche per l'agricoltura e la manifattura.